bella ragazzoli sono cazzo superstar bentornati in questo video sul mio canale e beh finalmente si parte con questo nuovo progetto insomma avventura live dedicata silent hill e short message e inizieremo intanto farò una prova un paio di giorni alla settimana dalla martedì 5 marzo e giovedì 7 marzo dalle ore 18 e 30 fino a più o meno all'ora di cena 19 30 barra 20 andremo avanti in questo gioco direttamente live solo in live quindi giocherò solo con voi in poche parole e volevo proprio avvisarvi per l'avvio tanto di questo progetto che da un po che ne ho parlato fatto passa un po di tempo spero che anche per me anche magari per compagnie per passare il tempo insieme abbia le sue visualizzazioni insomma vediamo un po poi se continuare a cominciare con un paio di giorni appunto la settimana poi vediamo un po l'interesse generale se riusciamo a farci compagnia insomma fare qualche zompo insieme che mi aspetto qualche stolto come si dice qualche spavento ecco diciamo così nel gioco anche se sarà una cosa molto ristretta immagino non so nulla nel gioco quindi non voglio sapere nulla ragazzi mi raccomando sotto barra spoiler vengono cancellati subito riga per favore nulla di nulla andremo gioca insieme vediamo in live e anche per avvisarvi che c'è un altro progetto voglio vedere un attimino come riuscire a incastrarlo durante la settimana che sarà dedicata ragazzi a quelle cose che non dice ma dai andremo a provare insieme i giochi che ci sono lo store della playstation ma logicamente partirò con quelli che inizialmente quelli che vedo un po più del tipo ma chi cacchio ci gioca forse chiameremo così la serie ma chi cacchio ci giocano so se possibile dovrebbe essere volgare come titolo non so mai però veramente ma chi cacchio ci gioca ecco quella la chiameremo così quella sede nevo provare un po di giochi che poi va tante volte fai queste cose di no solo però quel gioco fammi due risate scopri gioco della vita sarà difficile visto i titoli ecco già con quelli gratuiti ma non parliamo di quelli a pagamento è che magari a parte qui è da due euro che uno c'è adesso vabbè ci può fatturisate ma quelli che alcuni addirittura alcuni costano 20 30 euro di cima ammazza veramente sta roba così comunque dai intanto martedì 5 giovedì 7 cominciamo questa nuova serie dedicata a silent the short message giocheremo insieme passeremo un po di tempo insieme spero che ci sia qualcuno di voi vediamo insomma se vale la pena continuare questa serie in live e un attimo che mi organizzo valuterò anche un po di titoli insomma che non non voglio neanche spoiler cioè non andrò neanche guardare prendo qualche titolo qualche giochino quello di stupido me lo scarico lo provo con voi durante la una live per ridere insieme fare le battute insomma che cazzeggiare insieme le parole poi una volta finita quell'avventura desinstallato e buonanotte a meno che non dovesse nessun titolo che meno male boh mi ci diverto addirittura allora rimarrà un po nella bacheca della playstation altrimenti fuori dai maroni immediatamente volevo usare di questo vi aspetto intanto mi raccomando martedì 5 marzo alle ore 18 e 30 ok fino a più o meno abbiamo detto l'ora di cena vediamo un pochino dai come sarà la live spero che vi possa piacere e interessare che ci possiamo divertire insomma ci potremo divertire insieme per tutto buon proseguimento come sempre buon game a tutti grazie per il supporto mi raccomando non fate i tossici ciao